Ciao a tutti ragazzi, sono Keren e non vi andrò a spiegare che cosa è successo con il banner di oggi perché ne richiede soltanto 30 per il transfer da 10 o come funziona il banner perché sto dormendo, non so assolutissimamente come sono arrivato neanche vicino al computer l'unica cosa che voglio fare è provare le mie 50 Dreamable pagate perché ho pagato queste 50 Dreamable per fare questa estrazione fantasmagorica e voglio vedere che cosa ne esce, non me ne può fregare assolutissimamente di meno di niente di un cacchio perché sto banner per 30 e non è 50 non ne voglio sapere niente, lo voglio capire dopo ok quindi questa è un'estrazione normale in cui praticamente c'è un SSR è un'estrazione normalissima in cui c'è un SSR garantito si spacca, è così sfigata questa estrazione che si spacca pure vabbè, alla prima, il primo è quello che si spacca lo sapevo, ma io lo sapevo che mi usciva ok, quindi quello che dovrebbe essere nel fumetto è il partner di Clavis Subasa c'è uscito, ora vorrei capire perché logicamente non è un banner SSR più garantito ok, diciamo che mi ha dato pochissime emozioni cioè forse se mi poteva dare meno emozioni tutto ciò ok, ora che ci faccio questa... ah, ok, c'è una medaglia e dove me la... in quale orifizio me la devo buttare sta medaglia? ok, quindi ci sono anche le medaglie cosa importantissima da sapere che ci sono anche questi begli e infami che mi stanno trattassando all'esistenza quindi ci sono anche le medaglie con quante medaglie... scusate, per capire per capire l'altro banner se conviene pullarlo o non pullarlo con quante medaglie mi dai un personaggio nuovo? cioè, se con 3 pull mi dai un personaggio nuovo conviene fare 3 pull se con un pull mi dai un personaggio che è players 75 medaglie... mi stai prendendo per il culo? 75 medaglie 75 medaglie me lo decido io eh, sì, lo decido io eh, un... scusatemi se con 75 medaglie lo decido io un transfer quanto ne dà? non penso uno perché altrimenti dovrei fare uno allora andiamo a leggere un attimo le notifiche diciamo che non è uscito non lo so, tra tutti quanti non dico che era quello che preferivo di Miro anche perché Manoeuro gioca ancora con con Snyder Killer di Wokabayashi quindi assolutissimamente allora bla, 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 bla ah, di... cioè 10 se ho capito bene quindi dovrei fare praticamente 6 o 7 cioè ti avrei dovuto fare una sciopera Eh vabbè, avrei dovuto scioppare praticamente sto banner per garantirmene uno come Gesù scomanda. Vai, me lo sento. Mi sento fortunato. Mi sento fortunato. Quando uno si sente fortunato la fortuna non si dà, non è uscito niente. Fiamme Verdi significa merda. Fiamme Verde significa merda. La merda della merda, grazie. Ma va a cacare, va. 48, già non me lo dè più? Insomma sei serio? Ah, quell'altro è 50. Cioè non c'è il... non c'è il gradino 30, 40, 50. C'è il gradino 30... 30 mille. C'era nella scatola regalo, ma... Ah sì, forse c'era nella scatola regalo, esatto. C'era nella scatola regalo. Pensavi di potermi fottere così e no? No, no. Ci andiamo a fare un altro pull e non mi scatarri i coconets. Ci andiamo a fare un altro pull proprio veloce. Cioè perché dopo di questo dovrei fare altri 5. Se voglio il garantito. Di nuovo queste fiamme troll. Vabbè, no, non si può però così. Vedi, così ti fa passare la voglia. Non c'ho manco l'audio, cioè ti fa passare ancora di più l'emozione però. Andiamo a rendere che fa... ma che banner di merda. Ok, quindi praticamente... ora... se... se... ok... e ci ho capito bene... dovrei avere la bellezza di 30 medaglie. Me ne mancano. Sarebbero state praticamente... Ok, uno per persona, special shop. Cioè vendono quelle là da 50... ah, solo quelle da 50, logicamente per far shoppare. Mica stupid. Ok. Quindi stavamo dicendo. Quindi ora ne dovrebbero mancare automaticamente. Ma mi stai prendendo per il culo 75 e le altre 5 come le prendo? Beh, forse c'è un evento, c'è qualcosa. Vabbè ragazzi, sto totalmente dormendo. Ho provato la mia fortuna, la mia fortuna non c'è... Non resiste. Però l'ho provata. L'importante è sempre stare sul pezzo. Quindi ho buttato più Dreamable di quello che volevo buttare. Non ci ho guadagnato assolutamente nulla di nulla. Sto dormendo più di prima. Anzi, mi devo promuovere, devo scendere. Quindi vi ringrazio per aver visto questo video. È stato un video così a lasciar fasciare, giusto per capire che cosa. Cioè, che è successo. Perché stavo in banner con il tuo scritto 30. Senta, vabbè ci ho provato, mi sono buttato. Comunque è andata male. Niente, sopravviveremo. Un altro giorno andrà meglio. O almeno così si suppone. Il Dream Festival è andato di straculo, voglio dire. Era normale che avrei dovuto spiegare da qualche lato. L'ho spiegato qua. Comunque, vi ringrazio per aver visto anche questo video. E ci mettiamo in un prossimo video più svegli e più. Alla prossima.